Roman Gonzalez, concentriamoci sulla partita Gonzalez in buca il primo ora fa rumore il pubblico il fede marchigiana 2 su 2, fondamentale per Gonzalez che va in doppia cifra 74 pari, Drew Nicholas Rimini ancora un fallo da spendere, senta mandare Lunetta la formazione ospite 74 pari, 13 secondi al termine Trano ha scelta, sceglie di non far fallo e quindi concederà o supplementare o vittoria Fabriano questa Niccolas non prende il termine la conclusione della disperazione è supplementare supplementare, 74 pari e si va col salto di Wiscolas 74 a 79, più 5 per Fabriano altra scelta importante di Murat 4 piccoli mantiene bene il paleggio di Ingles va dentro John Barco assegno Nelson Ingles Ingles protagonista per Niccolas e Rimini che può andare all'ultimo tiro lo sbaglia Niccolas basta un tiro da 2 un fallo però che te pare sì, ottima, bellissima partita perché il punteggio va da una parte e dall'altra quasi ad ogni azione pesano sti due tiri liberi Tvirdic realizza il primo poi il trato per Daniel Tvirdic è il settimo punto 81 pari 15 secondi e tredecimi al termine 2 su 2 per il capitano bianco-rosso ottavo punto ma attenzione perché l'ultimo possesso è per Fabriano 82, 81 per Rimini 10 secondi al termine Niccolas 91 c'è Ingles 5 secondi ora c'è Tvirdic va a Niccolas fa saltare la volta la versata diretta e la sua conclusione sul ferro Ingles prima di vince prima di vince di un punto 82, 81 la partita è per la formazione di casa di grande cuore grande voglia di vincere Niccolas Parac agisce per via esterne Fabriano in questo primo attacco dell'ultima frazione ancora Barac ricevuto da Morri struttale di fondo la stoppata di Brian e poi il pallone recuperato da Rimini grande recupero difensivo con lo stoppone di Brian quindi concordo nella piede per la rimessa per Fabriano ma riparte Gabini va Gabini contropiede assegno Roberto Gabini scrive 16 contropiede dopo aver rubato il pallone senza guardia a 34 a 36 palli in mano ora però per la Conad la Bacchia va dentro contro Morri lo scarico per Silver Brian lo schiazzone di Silver Brian grande canestro di Rimini prima due punti per il franco-dominicano della Conad Flamini va Flamini nel cuore dell'area poi sbaglia la correzione Smith Drew si ritrova il pallone nella mano Drew Nicholas sbaglia ancora Gaeta rimbalto strato sferico di Gabini che riparte elude la guardia di un stesso a Gaeta poi parla per Gondales sotto per Federico Tassinari due punti subito per Federico Tassinari Nicola si nel palleggio Fabriano sto facendo l'errore di tirare solo da tre punti ottima palla recuperata da Rimini queste sono le cose che deve fare Rimini aumentare aggressività e buttarsi sul campo ottimo contropiede e ottimo canestro adesso Rimini ha messo un break importante eeuuuuhh il suo capolavoro lo realizza però nessuno 4 minuti e 6 secondi da giocare, Nicolas prende la tripla, la mette